Autostrada A14 tra Pedaso e Pescara, cantieri sospesi nel weekend dal 18-20 giugno per agevolare il traffico in vista degli spostamenti estivi. I cantieri che interessano nuove gallerie tra Marche e Abruzzo, operativi in A14, sono stati infatti al centro di un incontro tra Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, Autostrade per l'Italia, rappresentanti della regione Marche e della regione Abruzzo, le prefetture del territorio. Si pensa e inoltre fanno sapere da Autostrade per l'Italia anche a un programma di agevolazioni del pedaggio. Ma cosa pensano in particolare gli autotrasportatori? William Facchinetti della CNA. Vediamo che i cantieri verranno sospesi nei fine settimana a partire dalla seconda metà di giugno, garantendo così per i fine settimana la circolazione a doppio senso di marcia per carreggiata in entrambe le direzioni. Quindi di fatto agevolando tutti quegli automobilisti che decidessero di mettersi in viaggio per le vacanze estive nei fine settimana a partire dalla seconda metà di giugno. Ovviamente questo determinerà un allungamento dei cantieri che poi proseguiranno durante la settimana, per cui per noi autotrasportatori la notizia non è così positiva perché di fatto essendo in vigore il divieto di circolazione nei fine settimana, durante la settimana i nostri autisti si troveranno comunque ancora ad affrontare le deviazioni, gli scambi di carreggiata, i rallentamenti e tutto quanto quello che ormai abbiamo ben imparato a conoscere. Sono lavori che riguardano in particolar modo le gallerie e poi ci sono gli viadotti ormai noti? Sì, i lavori riguardano il consolidamento e la messa in sicurezza di diverse gallerie del tratto Sud Marche e Nord Abruzzo, che sono quelli poi che creano i maggiori disagi. Inoltre abbiamo sempre la situazione dei sequestri della procura di Avellino, dove lì c'è ancora il doppio senso di marcia, ma è ovviamente con una velocità di transito ridotta a 50 km orari. Ma qui abbiamo grande rispetto per il lavoro della magistratura e non vogliamo intervenire. Ciò che ci sta a cuore prosegue Facchinetti e la sicurezza degli automobilisti, autotrasportatori e lavoratori. Questione ricalcolo dei pedaggi? Sembra che sia un processo in divenire, attendiamo lo sviluppo di questa app, che una società controllata da Autostrade per l'Italia starebbe sviluppando. Noi chiediamo che vengano applicati o la sospensione totale del pagamento dei pedaggi o una consistente riduzione nell'ordine del 50% da subito e quindi speriamo che lo sviluppo di questa applicazione avvenga in termini congrui. Grazie. 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 Grazie.